Are you ready? Tu volevo cambiare un po' la formuletta magica, chiamiamola così, però ovviamente non è preparata, non è studiata, ma succede ogni mercoledì, mercoledì scorso non è successo perché era Sant'Ambrogio e quindi abbiamo fatto le diete al mattino, la sedia vuota, lo attende, ma tanto lui arriverà in ritardo, lui arriva in ritardo, poi si siede e chiede il caffè, poi viene il caffè in diretta, ma tanto noi ci siamo abituati anche i telespettatori. Noi dovremmo fare, Matteo, dovremmo fare sotto pancia Fabrizio Lavandissima-Biasini, fa proprio là, no? Vabbè, arriverà a... Mettiamogli anche la scalinata. Partiamo noi, partiamo noi Mauro, ecco ieri il Milan è sceso in campo a Dubai contro l'Arsenal, partita finita ai rigori, vinta dall'Arsenal anche poi sul campo, non ho capito sinceramente la formuletta di questo mini torneo che stanno facendo, però diciamo, guardiamo quello che è successo in campo, più che altro. Loro fanno comunque, comunque vada la partita, la partita mette in palio tre punti, ok? Se tu pareggi un punto a testa, la roba classica che conosciamo, però loro dicono, alla fine della partita facciamo i rigori, in palio un punto. Ah, ok. Cioè, ammetti che tu perdi la partita ma vinci i rigori, fai un punto. Prendi un punticino, ok. Se invece quello che ha vinto la partita vince anche i rigori, di punti se ne prende quattro, ieri l'Arsenal ha fatto questo. Come l'Arsenal, che ha preso quattro punti ieri contro il Milan. Vediamo però quello che è successo... Li aveva presi anche contro Lione. Sì, quello che è successo in campo, sul campo, meglio, le indicazioni che ci ha dato il campo, bene Adli, bene Branz... Sì, ha fatto una partita discreta... La gazzetta salva anche Origi, Origi che si voglia. Sì, 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 adesso, sì, sì. Lui ha fatto una buona gara, ha fatto una buona gara, ha fatto... Se quel tiro faceva gol invece di prendere la traversa, era un gol spettacolo, un gol da urlo, fatto contro l'Arsenal. Ha fatto una buona gara, diciamo, a me sono piaciuti Adli e Origi in primis, ecco. Poi Salemekers ha fatto proprio la classica partita di rientro in squadra. Il resto ho visto, ecco, a me interessa molto vedere, udite udite, crescita e progressi in Tomori. Cioè io rivoglio il Tomori della scorsa stagione. Per carità, Tomori è sempre sedio, sempre affidabile. Però, ecco, io voglio rivederlo, voglio rivedere il Tomori della scorsa stagione. E ieri l'ho visto. Intanto queste sono invece delle buone notizie che ci arrivano dai social, o meglio dal profilo Instagram di Zlatan Ibrahimovic. Lo possiamo vedere, questo video l'ha pubblicato lui, quindi è a disposizione di tutti. Eccolo qui, palleggia, quindi il ginocchio risponde bene e probabilmente magari presto, secondo la sua tabella di marcia, lo vedremo in campo. Stando alle indicazioni, poi chiedo a te, magari hai sicuramente più notizie di me, dovrebbe tornare a disposizione di Pioli da metà gennaio, ora non sto dicendo che giocherà, ma comunque tornare tra quanto meno i convocati. Brava, perfetto. Cioè, tornare a disposizione... Quando fai un crociato, devi mettere in previsione un otto, metterti l'anima in pace, otto mesi per tornare in gruppo. Quando poi torni in gruppo, sei un lungo degente. Non è che torni in gruppo due allenamenti e giochi. Torni in gruppo due settimane, poi eventualmente se va bene quelle due settimane giochi, per cui sarei molto, molto cauto sui tempi di Zlatan. A me poi è piaciuto nell'intervista comunque... È stato lui stesso a dirci che è maturato, è un altro giocatore rispetto a qualche anno fa, ma non parlo, diciamo, di campo, perché ovviamente parla la carta d'identità. Mi riferisco soprattutto alla testa, perché è un Ibra più maturo, un Ibra che di fatto fa da papà un po' i suoi compagni di squadra. E poi mi ha fatto sorridere quando gli hanno chiesto, ma ti vedi un domani come allenatore? E lui, con la sua solita faccia, un po' spocchiosa a volte, a tratte ha detto, beh, perché non lo sto già facendo. Però si scherzava, ecco. Lì fa battute, lì fa battute, lì fa un po' il gigione, non il gigio, è il gigione. Fa l'Ibra. Sì, fa se stesso. Quando è arrivato, calma ragazzi, calma, adesso Ibra parla. Adesso parla Ibra, cioè come dire, parlo io è un evento, ed è vero, perché quando parla lui è sicuramente un evento. Secondo me Biasin sta battendo tutti i record di ritardo della stagione. E va bene, insomma, questo poi, tanto prima o poi Fabio passa e lo vede. Faccio proprio il delatore, io lo faccio proprio il delatore e lo dichiaro. No, beh, ma guarda, quando Ibra parla, sono d'accordo con te Federica, ieri è stato, sì certo, certo, no, con calma, con comodo, con comodo. Arriva, eccolo. Con comodo. Hai battuto tutti i record di ritardo della stagione. Calmi che arriva Biasin. Molto. Vai, vai, Fabrizio. Tanto il caffè è già pagato. Offerto da Mauro stamattina, neanche da Matteo Iuliano. Ciao, ciao, dai, sì, 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 buongiorno. Mi segui qualcosa da dire. Beh, io ho sempre qualcosa da dire. Non ti conviene oggi? Dai calmo. Oggi il ritardo è di Trenitalia. No, ritardo. Allora, come ogni mercoledì, ricordo che prima delle 12.05 mi è impossibile essere qua. Quindi anche se di una prossima ripeteremo la stessa cosa. Ma tanto, lo siamo abituati, ma anche i nostri telespettatori non si aspettano neanche di vederti in studio quando apriamo la... Ma è stucchevole il fatto che voi non vi ricordiate questa cosa. Addirittura è stucchevole, capito? Stucchevole, stucchevole. Tu comportati bene perché... Tu stai calmo, non fare le minacce, non fare le minacce. No, alle 13 te si arriva in ritardo e te bevi anche in ritardo. Bene. Questi sono affari vostri. Affari nostri, assolutamente. Mi sono persa, mi sono persa. Di cosa stavamo parlando? Di Ibra? Stavamo parlando di Ibra, che parla come un libro stampato. Parla come un libro stampato. Quindi... E' già importante quello di contributo. Perché secondo me poi i compagni lo ascoltano quando parla e lo leggono. E quindi i messaggi arrivano a tutti. E quindi è bene. Poi ragazzi, io... Io diciamo da Zlatan nel 2023 non mi aspetto nulla. Se si inventerà qualcosa e se riuscirà a darci una mano sarà un di più. Ma intanto il resto della squadra c'è, è strutturato, ormai è nel suo percorso. Poi, se ci sarà anche Ibra, ben venga, tanto meglio. Però io non ripongo. Non è che metto la fish pesante su Ibra. Io faccio conto che non ci sia. Se poi c'è, è un bel di più. Perché è uno che poi ci mette esperienza, ci mette qualità, ci mette cinismo, ci mette voglia, ci mette mentalità. Quindi se ci sarà, tanto bene, tanto meglio. Ma io faccio conto che non ci sia. Se poi ci sarà, sarà un di più. Fabrizio, è un Milan che con Ibra ti fa più paura. O ormai pensi che comunque il Milan abbia tagliato, staccato il suo cordone ombelicale da Zlatan Ibraimovic? Allora, è esattamente quello che si diceva l'anno scorso quando si parlava di rinnovo di Ibraimovic. Il Milan non faceva riferimento a Ibraimovic come la sua stella porale se non c'è Ibra, se non c'è nessuno. Ibra è il giocatore in più che se può, da una mano, deve essere ovviamente lui a capire quello che può dare, quello che non può dare. Mi sembra che l'ultima intervista sia abbastanza esplicativa da questo punto di vista. Cioè lui dice, io so perfettamente adesso quello che posso e non posso dare. Quindi se posso dare una mano lo faccio, altrimenti no. Sono gli altri che devono essere delle certezze. Cioè in questo momento è Orighi che deve dare di più. Ibraimovic è il campione che in questo momento, se c'è bisogno, magari ti fa 10 minuti, un quarto d'ora. 20 minuti se va bene. Oppure magari anche addirittura un tempo se starà benissimo, non lo so. Però la verità è che non essendoci un problema di rapporti tra lui e Pioli, anzi, sono i due che hanno portato il Milano a un certo livello, qualunque cosa che potrà dare Ibra è veramente un vantaggio. Quindi sicuramente il Milan trarrà ragiovamento dal ritorno di Ibraimovic, che possa essere 5 minuti o un tempo. Mi fa paura, non deve essere un giocatore a far paura, è una squadra che ti fa paura. Il Milan con un Ibraimovic in più è sicuramente una squadra che ha una possibilità in più. Esco un attimo dal Milan, aprirei con voi una parentesi dedicata al Mondiale. Vi chiedo, siete d'accordo con questo titolo che vediamo adesso su Sport Mediaset? La svolta epocale di Messi, a 35 anni ha imparato a essere un leader, anche Messi è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un altro. Sono molto d'accordo, perché molti lo criticano per il suo atteggiamento contro l'Olanda, giusto? Però io, Fabrizio, vedere questo campione gigantesco, avere anche le sue debolezze, avere anche un po' di volgarità, per la volgarità è il momento di scazzo, poi passa, però intanto ce l'hai, un po' di... Era sempre, lui sempre educato, sempre compassato, sempre fa le righe, infatti nell'Argentina non l'ha mai fatto. Vedo che hai letto il pregevole editoriale, il sottoscritto, è uscito oggi. Comunque sono assolutamente d'accordo anch'io, cioè definiamola nuova cattiveria di Messi, è esattamente quello che gli mancava, perché lui è sempre stato, ovviamente, fenomenale in tutto, probabilmente gli mancava quel filo di sfacciataggine, cattiveria, a volte anche... Di vederlo un po' sporco. Eh, che è quello che serve anche per affrontare i momenti difficili, perché ogni tanto capita che vai sotto, che i tuoi avversari siano... e lui, secondo me, in questo mondiale si sta dimostrando capace di affrontare anche i momenti difficili. Poi, vabbè, ieri è stata una cavalcata per lui, cioè, nel senso, ha fatto quello che riesce a fare spesso e volentieri a livelli impressionanti. Cioè, ieri, allora, noi abbiamo per tutta la settimana osannato un difensore nuovo, giovane, 90 milioni, 100 milioni, Sì, sì, 90 mila. Ed è sicuramente un prospetto interessantissimo. Sì. Il nonno Messi, doppio dell'età, ieri lo ha preso in giro. Ieri ha fatto veramente qualcosa di fenomenale. Sì, ha fatto una roba di fenomenale. Io dico che Maradona resta Maradona, è un'altra cosa, però ieri Messi gli si è avvicinato molto. Eh, sì. Ma anche perché tu ieri lo vedevi veramente in tutte le zone del campo, cioè, è stato... Lui sta giocando da punta, che già la cosa è singolare, perché, insomma, si è trasportato in una punta. Ma tu ieri lo vedevi in tutte le zone del campo e ha fatto una cosa molto intelligente, perché per dare fastidio alla difesa della Croazia, lui non ha giocato là davanti, è venuto a svariare ovunque, destra, sinistra, centrocampo, eccetera, eccetera, e ha lasciato a Julian Alvarez la possibilità di entrare duemila volte. Ha fatto delle cose di un'intelligenza, al di là delle giocate che quelle gli vengono in un'area naturale. Fabrizio, ti fermo un attimo per una giusta causa, per leggervi quelle che sono le dichiarazioni di Messi. Messi che ha detto, quella di domenica, sono brava, vero? È la mia ultima partita ai mondiali. Vediamo nel dettaglio quello che ha dichiarato Messi, la frase fondamentalmente è questa, quella di domenica sarà la mia ultima partita, perché è per una questione di età, difficilmente poi lo vedremo arrivare al prossimo mondiale, anche se lui di anni ha 35, quindi magari ha 39 anni, magari con un ruolo diverso, il mondiale lo può ancora fare. Però questo è il suo mondiale. Vedi quanto sono importanti gli ultimi anni della carriera? Perché Messi e Cristiano Ronaldo sono sempre stati lì lì. Adesso c'è una voragine fra Messi e Cristiano Ronaldo. Secondo me dipende anche, i due anni fanno la differenza, soprattutto perché Ronaldo è sempre stato uno più condizionato anche dalla condizione fisica rispetto a Messi. Però secondo me è anche la gestione. L'anno scorso Messi ha disputato una stagione pessima rispetto al suo valore, al suo potenziale. Infatti non era stato neanche inserito nella lista dei potenziali. E noi ci immaginavamo, esatto, ci immaginavamo, è la fase finale della carriera di un grande. In realtà lui quest'anno si è gestito in maniera perfetta, a partire da agosto in avanti, è stato un crescendo clamoroso, aiutato dai suoi compagni, perché lui si è sempre fatto aiutare dal resto della squadra, a differenza di Ronaldo. Sì, sì, lui ecco, lui, questo è giusto, ha ragione Fabrizio, la sensazione che dà, io poi li guardo sempre, i giocatori non soltanto quando segnano, fanno l'assist, ma quando esultano. Cioè lui è proprio dentro la squadra. Cristiano Ronaldo tende sempre a essere al di sopra della squadra. Per carità, è una caratteristica, non sei un campione così gigantesco se non hai un ego particolarmente sviluppato. Quindi ci sta. Però c'è questa differenza. Questo mondiale Messi lo sta facendo da propulsore del gruppo, invece Cristiano Ronaldo non riesce a essere quella cosa lì. Non c'è dubbio. Mi devo fermare per la pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. In calma. Rieccoci, rieccoci in diretta. Prima di parlare di Inter, Fabrizio, facciamo anche un piccolo aggiornamento sulla Juventus. Noi ne parlavamo già ieri sera durante la prima serata, però diciamo che oggi arrivano anche delle maggiori conferme. Sembrerebbe che il rientro di Pogba si sia allontanato ulteriormente. Adesso si parla di un rientro a partire da fine gennaio. Lui puntava alla Cremonese, cioè la prima partita dopo la sosta, ma non sarà possibile riaverlo. L'abbiamo visto anche ieri attraverso i social della Juventus. Lui si sta allenando sempre a parte, solo lavoro in palestra, solo lavoro in piscina. Non vede ancora il campo e soprattutto almeno durante questa nuova preparazione in vista della seconda parte di campionato non credo neanche possa riprendere ad allenarsi col gruppo e si parla di rientro a fine gennaio. Quindi la Juve, ricapitolando, a Pogba che rientrerà a fine gennaio. I giocatori, gli argentini e Rabiot, che comunque sono ancora impegnati col mondiale, quindi arriveranno proprio a ridosso della ripresa. Vlaovic con la pubalgia, Chiesa con un problemino muscolare e Quadrado con problemi al ginocchio. Quindi diciamo che la storia si ripete, nel senso che la prima parte di stagione è iniziata così e mi sa che anche la seconda inizia, piena di infortuni. Le due cose non c'entrano, sono completamente staccate e scollegate. Ma quando un grande club entra in un circolo vizioso, il circolo vizioso ti contagia dappertutto, ti va a prendere dappertutto. Cioè non c'è correlazione fra... Beh, un po' di correlazione c'è, perché se la Juventus avesse azzeccato secondo me progetto, io questa cosa la critico da quest'estate, non da adesso, Pogba non avrebbe dovuto prenderlo. No? Quindi, va bene. Anche Quadrado, quest'estate, ti ricordi a giugno si parlava di qualche... Facceva un po' i capricci, eccetera, eccetera. Vlaovic, Vlaovic, tu hai forzato la situazione, hai forzato il tuo bilancio, l'hai preso, ma secondo me la scintilla non è ancora scoccata, la chimica non è ancora quella giusta. Quindi non mi sembra solo un caso, solo una fatalità, mi sembra che tutto in questo momento si tenga in maniera non positiva nella Juventus. Tutto sia collegato in maniera non positiva nella Juventus. Sì, non sono solo brutte notizie in realtà, perché intanto Chiesa è vero che ieri ha preso un colpo, ma chi è lì dice che comunque sia sta tornando Chiesa... Sì. Già l'avevamo intravisto... La mattina parlavano di piccolo fastidio muscolare. Sì, piccolo fastidio muscolare, però l'idea di poter mettere un Chiesa nel motore è già una cosa buona. Paredes, l'ho visto ieri sera, se gioca così è un giocatore più che utile. Sì. Cioè, Paredes deve giocare come ha giocato ieri sera, quella è la versione bella del calciatore che è la Juve, fino ad adesso non l'abbiamo visto. Di Maria mi sembra che abbia ancora tanti problemi fisici, Pogba è un mistero. Era in panchina ieri Di Maria. Sì. Sì, nel senso che evidentemente in questo momento non è ancora a posto, invece Pogba è una cosa seria, nel senso che un menisco, per quanto possa essere un problema, in teoria lo risolvi. Cioè, sei mesi? Sei mesi stai esagerando sul menisco. Qui stiamo andando un po' oltre. La mia sensazione è che ci sia qualcosa di diverso, però ovviamente non sono meglio un medico, però è una questione di tempi. Sì, i tempi sono veramente lunghi per un menisco, non parliamo di un crociato, parliamo di un menisco, e quindi esagerando in tre mesi torni a giocare. Esagerando. Anche, nonostante l'errore che ha commesso all'inizio, della terapia conservativa, questo e quell'altro. Io non so cosa sia. Non so se è il menisco o non è il menisco, non lo so, sicuramente sarà il menisco, però il fatto è che lui già al Manchester United la spina si attaccava e si staccava. Cioè, lui non è arrivato alla Juventus da un periodo di grande continuità agonistica e di grande fulgore fisico. E l'anno scorso 18 partite saltate per infortuni. È arrivato alla Juventus già mezzo e mezzo. E quindi tu lo devi mettere in preventivo questo. Cioè, se tu prendi Pogba perché Pogba sia un po' un di più rispetto a un progetto stabile, solido, già avviato, va bene. Ma se tu prendi questo Pogba per farne il fondamento della tua stagione non va bene, secondo me. E anche perché adesso devi sperare, è una speranza non vana, secondo me, però devi sperare che i tuoi giovani riescano a stare a livello. Sai, hai miretti e fagioli che nell'ultima fase della prima parte ti hanno fatto vedere di avere un certo tipo di valore. Quindi questa è sicuramente una bella notizia. Però effettivamente la Juventus era partita dicendo benissimo, Pogba e altri dieci. In realtà non c'è mai stato. Quindi insomma, capisco anche Allegri che a un certo punto dice voi volete un certo tipo di cose, però noi abbiamo basato la stagione su un giocatore che poi non c'è. Devo dire che ti sei assunto un rischio, perché effettivamente la situazione su Pogba più o meno l'avevi capita, intravista, no? Rispetto alle ultime stagioni. C'è anche una componente sfortuna clamorosa perché arriva, si rompe. È un po' come un maldum alla Roma. Arriva il centrocampista, si rompe. Sì, perché lì non parli infatti di problemi muscolari e quindi dici te la puoi prendere con i preparatori, parli di un altro tipo di infortunio, non puoi prendertela con nessuno se non con la sfortuna. Ma ti chiedo di aggiornamenti su Brozovic, Fabrizio, perché ieri sera scrivevano problemini muscolari per lui, anche alla luce poi delle parole del CT della Croazia. Noi l'abbiamo visto uscire, ci siamo anche meravigliati della sostituzione, probabilmente perché comunque non stava benissimo. Eh sì, l'unica cosa che sappiamo è quella che ci ha detto il CT nel post partita, dice che l'ha tolto perché ha sentito un problema e ecco la frase che a me ha lasciato un po' stanno è abbiamo preferito preservarlo per la finalina. Cioè la finalina, terzo e quarto posto. Già stavi giocando male, poi hai tolto Brozovic, è stato un disastro completo. Io credo che lo abbia tolto proprio perché non aveva questo fastidio. Dopodiché se ha questo fastidio riportarlo a casa immediatamente. Ah già, mi ero un attimo persa. Finalina nel senso, pensava poi al terzo e quarto posto. Io pensavo l'ho tolto nella speranza di magari se arriviamo in finale ce l'ho. Non avevo capito. No, no, finalina. Io speravo che l'avessero anche eliminata sta finalina. No, no, c'è ancora. No, c'è, sì. Perché hai due soldi in più. E però, Fabri, allora io ti dico subito, Brozovic l'avrei rinnovato anch'io. Su questo non ci piove. Però... Ha fatto un mondialone, eh, Brozovic. Sì. Mondialone, non mondialino. È giocatore che ha corso nettamente più di domani. Vabbè, però io domani, io domani va bene che la nazionale è una cosa seria, domani la finale del terzo e quattro posto, sabato. È una cosa seria. Torna a casa. Cioè, voglio dire, l'Inter ha investito su di te. È un'infinita di soldi. Sì, non dipende da lui, perché non è che può essere lui a dire ok, me ne vado. Che stia attento, perché siccome è un giocatore che corre 15 chilometri a partita, se hai già un problema, adesso devi ragionare sul quattro gennaio. Cioè, adesso la finalina... Fino a ieri io capisco. La finalina, adesso ragioni, devi già ragionare sul quattro gennaio. Perché poi Brozovic sarà il dominatore del girone di ritorno e l'Inter avrà fatto l'operazione migliore della sua carriera. Però il Brozovic post-rinnovo... Non ha preso l'occhio. Ma non parlo di Brozovic. Dico in generale, i rinnovi, non sto parlando dei giocatori giovani, sto parlando in generale, i rinnovi non sono la panacea, non sono la ricetta miracolosa. Possono andar bene e possono non andar bene. Questo è sicuro. Brozovic ti assicuro che ha fatto un bel mondiale. Cioè, è il giocatore che ha corso di più, non nella Croazia, nel mondo, al mondiale. E ha giocato al suo livello, cioè toccando un miliardo di pallone. Secondo me, se si torna a questo Brozovic, è una manna dal cielo. Sì, però, a mio avviso, comunque ha ragione Mauro, quello della prima parte di stagione non è stato, diciamo, il miglior Brozovic dell'Inter. È fermo da due mesi, cioè non ha giocato. È vero, Fabio. Sì, però a inizio stagione si diceva Brozovic e Barella non benissimo. Poi comunque resta un giocatore forte, però meno brillante degli altri anni. A inizio stagione l'Inter non benissimo. Era tutta l'Inter che non funzionava per mille motivi, ma ovviamente siamo nel campo delle opinioni. Secondo me, mettersi a giudicare, guarda, l'ha detto Barella l'altro giorno. Nel suo ruolo secondo Barella, secondo Barella forse esagerando, secondo lui è il migliore al mondo. Secondo me lì in mezzo i giocatori che fanno quel tipo di lavoro sono veramente pochi. È un giocatore fortissimo quando sta bene, migliore al mondo non lo so, però ognuno mancherebbe altro alle sue opinioni e Barella lo conosce molto bene. Però il segnale, secondo me, poi tu le cose dell'Inter le conosci meglio tu, ma il segnale secondo me te lo dà anche in Zaghi perché quando Brozovic torna pronto, il Brozovic dell'anno scorso, un minuto prima l'avresti già messo in campo. Ma c'è un motivo, c'è un motivo perché Brozovic torna ed è al 30% e tu l'anno scorso l'avresti messo al 30%, quest'anno c'hai Ciaranoglu che sta giocando benissimo. È vero, però per fortuna avevi un'alternativa, hai un'alternativa in questo momento Ciaranoglu sta giocando veramente bene quindi per fortuna poi potevi aspettarlo ma adesso mi sbaglierò. Secondo me li vediamo in campo assieme uno e l'altro. Vediamo. Intanto stavo vedendo parlando sempre di Inter ho la sensazione che si stia ragionando su entrambi in campo assieme e ti dico che secondo me possiamo vedere anche delle novità. Vediamo. Tipo? Tipo? Sono curiosa. Vediamo, vediamo. C'è questa suggestione di mercato che parte da tutto sport tutto ovviamente è partito da quella indiscrezione di qualche giorno fa su Akhimi. 4-2-3-1 No, no, no la difesa 4 mai con Zaghi ma figurati no, no, no 3-5-2 resta il 3-5-2 ci mancherebbe. Sfruttare più Mkhitaryan come abbiamo visto Mkhitaryan ha giocato tantissimo Sì, però ha messo diciamo dietro alla punta un po' come giocava la Lazio in Zaghi No, no la figura c'è le due adesso c'è si spera che rientri anche Lukaku cosa gli fai togli un posto di attacco no, no allora Lukaku lasciamo un attimo in stand-by perché comunque sembrerebbe molto carico almeno queste sono le notizie che arrivano a voglia scalpita però dice Fabrizio c'è questa suggestione di mercato che arriva da tutto sport diciamo che la chiamo sempre suggestione più che indiscrezione è già partita da circa una settimana perché sembrerebbe che Akhimi non sia particolarmente felice al Paris Saint-Germain che dopo dopo aver visto la vicenda Lukaku anche lui abbia voglia di fare più o meno la stessa cosa quindi tornare all'Inter questo è quello che ci raccontavano settimana scorsa oggi tutto sport riprende queste voci e vi faccio vedere il titolo anche ripreso da FC in 3908.it Akhimi suggestione se parte Dunfris c'è anche un'altra pista quella che porterebbe a Lazzari forse più facile da seguire meno da fantamercato però chiedo a te Fabrizio potrebbe essere Akhimi sostituto di Dunfris a me sembra veramente fantamercato a me sembra che lo stiamo alimentando però questo fantamercato se lo diciamo per cui no non esiste una possibilità del genere Daniele Mari lo dice Daniele Mari riprenderà qualche notizia io credo che in questo momento nella assenza di notizie di mercato non per l'Inter in generale e sarà un gennaio di balle clamorose perché non ci sono soldi valga un po' tutto compresa questa che è una cosa non credibile poi se vogliamo non provare a crederci perché uno dice è successo con Lukaku posso succedere anche con Akhimi su storie completamente diverse Akhimi sono convinto che sarebbe rimasto volentieri all'Inter a me piace tantissimo a me a chiunque piace tantissimo però in questo momento è una squadra che gli dà 8 milioni di euro a stagione più bonus ha un contratto a lunga scadenza e gioca nel Paris Saint Germain non c'è uno spiraglio per ragionare su una roba del genere cioè poi ripeto possiamo fantasticare finché vogliamo ma non c'è questo spiraglio tra le altre cose cioè lui non è in grado di fare lo stesso tuffo triplo carpiato che ha fatto Lukaku ma io non credo neanche che lui abbia tutto mentre Lukaku era in rottura totale con l'ambiente con l'allenatore eccetera eccetera in questo momento Akhimi dice io stavo benissimo all'Inter forza Inter voglio bene all'Inter e su questo è sincerissimo dopodiché non sta dicendo Paris Saint Germain che schifo mi fanno schifo odio tutti cioè è in una situazione magari tattica diversa lui preferiva giocare come giocava all'Inter ma nel frattempo gioca con andiamo nell'ordine Messi Mbappé Neymar cioè nel senso gioca sempre a differenza di Lukaku ma poi ha un contratto a lunga scadetta mettiamo anche che si riuscisse a fare qualunque cosa stiamo parlando di un giocatore che è costato 70 milioni ma stasera la Francia passa senza problemi sicuro diciamo che senza problemi magari no faccio fatica a immaginare si tratterebbe veramente di un'impresa incredibile perché insomma il Marocco ne ha già fatte tante in questo mondiale di imprese perché è stato bravissimo a fare una fase difensiva eccetera eccetera la Francia è una squadra contro l'Inghilterra non mi è piaciuta tantissimo secondo me l'Inghilterra addirittura meritava di più esatto anche secondo me l'Inghilterra meritava di più però sai perché io quello che quello che il mio tarlo è che la Francia fa il calcio di chi sta nella sua metà campo e poi scivola in avanti ma il Marocco non te lo fa fare questa roba qua il Marocco dice palla a te e gioca e io sto qua sì poi sai se Mbappé c'è Mbappé ma ce li ha gli spazi Mbappé contro Achimi il problema è il duello è Mbappé Achimi sì Mbappé che può anche dare dall'altra parte del campo cioè talmente forte secondo me che lo spazio se lo può anche trovare da suo cioè in questo momento Mbappé a me ricorda tanto adesso dico una cosa magari qualcuno sì Ronaldo quell'altro e quindi è uno che secondo me è capace di fare la differenza a un certo livello poi il Marocco è bravo perché non ti lascia mai l'uno contro uno cioè sono magari anche tre contro uno e quindi ne devi saltare tre dovesse arrivare in finale sarebbe veramente la vittoria del non gioco ma non è secondo me non è vero che è un non gioco è un gioco è quel gioco che ti permette di ottimizzare al massimo le tue caratteristiche e qualità cioè il Marocco in maniera assolutamente corretta legittima intelligente sfrutta le sue qualità il calcio è fatto anche di quello grande fase difensiva e ripartenze cioè devi anche essere bravo a fare le ripartenze tu hai Hakimi che fa un certo tipo di lavoro Ziyech ne fa un altro comunque sia ce le hanno le loro individualità Amrabat sta giocando a centrocampo vale per tre Amrabat in questo momento sembra Gattuso all'ennesima c'è una roba impressionante per cui secondo me qualche possibilità ce l'hanno la Francia al suo massimo potenziale per me è più forte non solo del Marocco ma anche dell'Argentina in finale al massimo del suo potenziale mi fermo per la pubblicità torremo tra poco restate con noi rieccoci rieccoci in diretta Fabrizio parliamo anche di Lukaku mi sembra di capire che il giocatore stia benissimo che ha voglia che scalpita che non vede l'ora di non solo tornare a giocare ma soprattutto di riprendersi l'Inter di fare quello che non ha fatto fino adesso sì allora sta benissimo no non sta benissimo stesse benissimo probabilmente in questo momento non ragioneremo su quello che abbiamo visto nell'ultimo mese è in una fase in cui sta cercando di far crescere la sua condizione fisica che nell'ultima partita in cui l'abbiamo visto in campo era il 10% quindi sicuramente lui per pensare di poter giocare il 4 gennaio deve allenarsi moltissimo deve ritrovare la condizione fisica e psicologica perché anche quella probabilmente è un po' la smarrita al mondiale e quindi sta benissimo deve riuscire a stare benissimo per il 4 gennaio e questa è una cosa che si può fare deve levarsi di dosso il peso di quel secondo tempo di quel tempo giocato contro che ha consegnato al Belgio l'eliminazione dal mondiale però ripeto per l'Inter è fondamentale ritrovare Lukaku perché passa anche dai suoi gol quelli che sono mancati nella prima fase la possibilità se non di dar fastidio al Napoli che in questo momento è in fuga comunque sia di confermarsi nelle parti alte della classifica Mauro che seconda parte di stagione ti aspetti da Lukaku? insomma io non so se nella seconda parte della stagione Lukaku potrà fare qualcosa immagino un passaggio del testimone se Lukaku sta bene il testimone passa da Dzeko a Lukaku e allora dico e chiedo farà tanto meglio di quello che ha fatto Dzeko nella prima parte della stagione? allora in questo momento se mi chiedi a me per me l'avversario oserei dire nulla cambia cioè ha fatto così tanto bene Dzeko nella prima parte della stagione potrebbe fare più o meno la stessa cosa Lukaku nella seconda allora in questo momento Dzeko è la certezza dell'Inter sì certo quindi se mi chiedi a me il 4 gennaio mi aspetto di vedere Dzeko e poi Ugo tra Lukaku e Lautaro in questo momento perché per quello che ho visto fino adesso Dzeko è la certezza lì davanti Lautaro arriva per ultimo perché devi giocare anche la finale per cui figurati e quindi per fortuna l'Inter ha avuto Dzeko a quel livello poi ovviamente Dzeko ha la sua età e quindi pensare che possa giocare al girone di ritorno come ha fatto il giorno è andata è una speranza ma non è una certezza quindi servono tutti serve Correa Correa adesso è giunto il momento di dimostrare di avere un certo tipo di continuità cioè l'Inter non deve comprare punte l'Inter ce le ha le punte devono tutte per formare come sono riusciti a fare Dzeko e Lautaro nei primi mesi voglio coinvolgere un telespettatore e prendo una telefonata da casa pronto? pronto? ci sei dall'altra parte? mi sa che non c'è nessuno però ovviamente vogliamo coinvolgervi quindi aspetto le vostre telefonate così parlate anche un po' voi torno sul mondiale sulla partita di ieri ecco vi chiedo un voto a Orsato perché leggevo queste dichiarazioni di Modric Modric che si è molto arrabbiato per il rigore concesso all'Argentina ha detto è impossibile non parlare di arbitri Orsato ha diretto diverse mie partite non ho nessun buon ricordo di lui è uno dei peggiori che conosco un disastro queste sono le parole di Modric su Orsato dunque Orsato è un grande arbitro però c'è chi lo digerisce e chi no capisco perché è un arbitro dalla personalità forte è un arbitro che insomma con lui vale sia il regolamento del gioco del calcio dell'International Board che il regolamento Orsato e quindi ci sta che possa essere discusso secondo me Modric è andato un po' lungo perché Orsato non è un disastro però capisco che sia un direttore di gara che o metabolizzi oppure no o digerisce oppure no è il destino di Orsato è un po' divisivo come arbitro come atteggiamenti come scelte il rigore di ieri sera poteva essere dato poteva non essere dato non è uno scandalo che sia stato dato non è scandaloso lascia qualche dubbio l'azione fa discutere ma non è scandaloso che sia stato dato rigore allora io ieri quando l'ho visto in diretta non ho avuto le certezze che poi hanno avuto tutti quanti tanti hanno detto rigore nettissimo e probabilmente il rigore c'è perché insomma per la dinamica il portiere allarga un po' eccetera eccetera io sono rimasto un po' così perché comunque sia l'ho visto comunque fermo cioè in realtà è più l'attaccante che gli va addosso che però non credo che quella sia la discriminante tra una direzione buona e no secondo me Orsato ha arbitrato bene cioè secondo me Orsato ha arbitrato molto bene tutto il mondiale bravissimo sì e non è che mi stia così simpatico Orsato però secondo me è stato bravissimo cioè Orsato ha più ammiratori fuori dall'Italia che è l'Italia devo dire tra questi non c'è Modric no vabbè ma quando allora se tu se vai a vedere dagli ottavi in avanti tutte le squadre che sono uscite una puntura all'arbitro l'hanno data tutti se la sono presa con l'arbitro per qualsiasi motivo poi chi non è interessato alla cosa e riguarda la cosa con distacco secondo me ieri è stato arbitrato bene poi sul rigore anche secondo me possiamo discutere però per esempio ieri ho fatto il tweet ma rigore o no 800 risposte 700 sono nettissimo per me c'è un po' di negligenza da parte di Livakovic c'è un po' di che lui insomma il portiere se si fa trovare così si prende il rischio di che gli fischino rigore però ripeto per me la direzione è stata buona secondo me ha gestito anche bene i momenti di tensione ah beh quella è la sua specialità cioè lui è diciamo ufficiale sì nel senso che a un certo punto Messi che è Messi cade nel primo tempo cade al limite dell'area perché forse c'era anche il fallo e Orsato guarda Messi gli dice dai prego corre sicuramente un arbitro d'esperienza è anche uno che non si lascia intimorire anche davanti a mostri sacri ci riprovo con la telefonata pronto? sì pronto sono Giorgi da Bergamo ciao Giorgi vai ti ascoltiamo allora io volevo esprimere un unpopular opinion su Leao sì vai praticamente attento a quello che dici Giorgi perdere Leao a zero non sarebbe un dramma così catastrofico perché il rinnovo di Leao ti costerebbe intorno ai 100 milioni tra multe non multe ingaggio all'ordo e non all'ordo e tu intanto in un anno e mezzo paghi un giocatore straordinario a un milione e mezzo circa un milione e otto quello che prende se tu dovessi prendere un sostituto innanzitutto lo pagheresti pagheresti il cartellino che è una spesa comunque se vuoi prendere un sostituto di Leao sarebbe una spesa importante e inoltre il sostituto di Leao non prenderebbe mai un milione e otto dovrebbe prendere comunque immagino un tre tre e mezzo quindi tu andresti a spendere di più rischiando di avere un giocatore meno performante di Leao per un anno e mezzo quindi in termini di vantaggi svantaggi avere Leao ancora un anno e mezzo un milione e otto non so se è così uno svantaggio per il Milan ecco ti rispondiamo grazie ciao ragazzi sento un tifoso che gli faccio i complimenti adesso io non sto dicendo che Leao arriverà a zero non sto dicendo questo mi auguro che rinnovi è già online summa due punti Leao di calcistiche come viene vissuto l'ultimo anno dai tifosi da lui eccetera il ragionamento strettamente economico che fa Giorgi è impeccabile è esattamente come dice lui esattamente sì comunque abbiamo fatto anche poi questi ragionamenti con altri giocatori in primis con Donnarumma per il discorso poi di risparmio e tutto il resto e se non mi dovete spiegare perché nonostante questo meteorite che ogni anno cala sul pianeta Milan per cui un giocatore va via a zero però poi il bilancio di mezzo al suo passivo come mai come mai tutti dicono che è un danno economico invece il danno economico non c'è come mai questo mi chiede prendi un'altra telefonata da casa sentiamo che abbiamo in linea pronto? pronto ci sei dall'altra parte? pronto ciao Mauro ciao Federica aspetta aspetta anche questo è un grande classico del mercoledì per chi lo sapesse aspetta 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 che ho delle sessazioni vai Fabrizio secondo me non siamo in Liguria non siamo in Val d'Aosta siamo Vigevano sei Vigevano? Roby? sei Roby? si ascolta sei Roby? non vuole parlare con te neanche ti considera tu lì dai tu hai tutta questa incertanza e lui non ti considera Roby Vigevano? eh vai ascolta sentiamo il fantamercato di Roby oggi dove ci porta? sì visto che siamo in tema per il mercato sì volevo sentire un po' Suma ecco il mercato del Milan Mauro cosa c'è di concreto di reale dell'interessamento dell'attaccante dell'Ens Open Da come scriveva tutto sport bene a settimana prossima ciao Roby ciao ho visto il nome adesso mentre eravamo in onda lo mettevate anche voi non lo so non lo so non lo so però di solito queste cose il giovane è la cosa a parte l'Azetic che hai fatto perché era partito Pellegri sì se no l'Azetic non lo facevi il giovane di quel tipo lì di quel profilo lì seguito dagli scout lo fai in estate non a gennaio in generale io dico una cosa ai tifosi del Milan l'anno scorso è stato un dramma il fatto che non abbiamo fatto mercato a gennaio un dramma un dramma arriveremo quinti arriveremo sesti la Juve l'Atalanta e poi invece non è andata così io non so se le storie si ripetono o non si ripetono non lo so però io dico che il Milan bisogna capirlo e conoscerlo poi ciascuno si fa le sue opinioni mancherebbe altro ciascuno dice quello che pensa e come la vede però il Milan non è un club schizofrenico per cui se hai fatto un mercato estivo e del mercato estivo non hai ancora tirato fuori tutte le potenzialità dei giocatori non hai ancora portato tutti i giocatori al massimo prima devi sfruttare al massimo il potenziale estivo poi fai il mercato per cui io non prevedo grosse cose nel nel mercato di gennaio anzi guardate non prevedo nulla non prevedo nulla il mio interesse è che cresca Orighi che cresca De Ketelare che si consolidano CIO Franks ed Est questo è il mio interesse e che la squadra stia bene poter schierare Mignoni in porta e tutto il resto questo mi interessa io questo vivo per la prossima stagione non so poi chiaro che il tifoso vuole mercato 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 lo capisco però se ci sarà mercato sarò contento per i tifosi se non ci sarà mercato non fate drammi perché la storia recente insegna che non bisogna fare drammi ieri sono stato al Brindisi mi hanno gentilmente invitato i colleghi alla comunicazione del Monza al Natale della comunicazione del Monza e Gagliani ci diceva proprio questo diceva ragazzi mettetevi il cuore in pace la Serie A è te la giro Fabrizio così ci puoi fare il tuo titolo un campionato di transito ma è la stessa cosa che dice Marotta da mesi e mesi un campionato di transito è così se tu pensi che tu puoi essere competitivo con una squadra della Premier sei fuori perché se la Serie A fattura 2 miliardi e la Premier fattura 8 non dov'hai ma tu sai che allora quando il Brighton ha scelto De Zerbi mi sono permesso di dire per me andare ad allenare il Brighton squadra di mezza classifica di Premier vale più che allenare una buona ottima squadra in Serie A anche di vertice io penso che il Brighton abbia in partenza più budget di Milan l'Inter-Juventus io penso che alla lunga il Brighton sia più visto in Australia delle nostre assicuro anche in Cina e Giappone e il problema è che tanti non lo capiscono questa cosa perché pensano ancora che le nostre squadre siano il massimo del mondo noi vogliamo ancora ragazzi voi volete voi volete voi volete il calcio alle 14.30 e basta tutti giocavano volete che giochino tutti alle 14.30 e volete che si continui a giocare negli stadi vecchi e gloriosi che abbiamo perché siamo romantici allora se volete questo calcio qua poi non chiedete mercato a nessuno perché questo calcio qua guadagna 0 mentre la Premier guadagna 100.000 quindi fate voi decidete voi se volete il calcio perché le 12.30 ci fanno schifo perché il campionato spezzatino non ci piace perché il nuovo stadio non lo vogliamo i residenti le abitazioni l'idride carbonica tutte queste robe qua va benissimo avete ragione voi alla domenica facciamo un'altra cosa il calcio con i costi per essere competitivi con i costi degli altri non si può fare in Italia così come lo vuole come lo vogliono le anime belle onore alle anime belle non le canzono non faccio ironia non le prendo in giro onore alle anime belle ma il calcio delle anime belle è un calcio da paese del terzo mondo calcistico che va bene ci si può appassionare e divertire anche con quello però l'importante è che sappiamo bene di che cosa stiamo parlando mi devo fermare però per la pubblicità torremo tra poco restate con noi rieccoci rieccoci in diretta ultimo blocco insieme torno Fabrizio sul mercato dell'Inter ti chiedo anche di Dumfries perché sembrerebbe che il giocatore piaccia anche al Manchester United non solo al Chelsea ma si è un'altra che ha disputato un bel mondiale non benissimo il quarto contro l'argentina stra bene l'ottavo con generale comunque ha fatto vedere di essere uno che può fare molto bene l'esterno a tutta fascia non ha i piedi di Hakimi e non ce li avrà mai però ha un certo tipo di fisicità capacità comunque di incidere che può piacere a tante squadre anche di alto livello quindi insomma per il ragionamento che facevamo prima il discorso è sempre lo stesso cioè dovesse mai arrivare un'offerta per l'anno prossimo da 50 mili sto sparando cifre a caso 50 milioni per forza di cosa la devi ascoltare poi che ci siano delle certezze sulle cessioni no tutto dipende sempre da che alternativa hai e da che offerta arriva se hai un'alternativa e l'offerta è importante è possibile che un giocatore parta viceversa ci sono dei contratti quindi per fortuna di cose hai dei contratti a lunga scadenza quindi puoi andare avanti con i giocatori però è chiaro ti chiedo a fine stagione deve esserci comunque una cessione importante beh lo dicevamo guarda l'anno scorso poi abbiamo detto ci deve essere una cessione importante ci deve essere una cessione importante non è andato via nessuno è stata rimandata? tutte le volte diciamo così poi vediamo si ripende sempre dalle offerte l'Inter ha detto no a 60 milioni perché per screener l'offerta era arrivata ha detto no l'Inter 60 60 60 e all'ultimo giorno di mercato quindi il rischio addirittura adesso lo perdi a zero hai perso un giocatore a zero per preservare la squadra quindi le cose sono due o diciamo che la proprietà è una proprietà di persone cattive maledette che vendono tutto e tutti oppure dall'altra parte c'è chi dice non sono capaci di vendere i giocatori questo e quell'altro nel senso va bene criticare ci sta per l'amore del cielo però non è che deve essere per forza tutto sbagliato in questo momento l'Inter cioè l'Inter ha venduto Hakimi e Lukaku ok due anni fa Peris è andato via a zero e vabbè ma ha venduto Hakimi e Lukaku e uno se l'è pure ripreso non è che sta svendendo tutti chi è che ha svenduto ha venduto Hakimi no quindi insomma prima di dire sicuramente l'anno prossimo ne partono altri 5 aspetterei ti chiedo questa è un'indiscrezione che arriva da Udine sembrerebbe che l'Inter abbia chiesto informazioni su Beto non ne ho la minima idea se lo chiedi a me a me Beto piace tanto non ne ho la minima idea non me la stai dicendo tu adesso la prima volta che la sento questa cosa a me Beto è sempre piaciuto tantissimo secondo me è un bel bomberone magari un po' da svezzare magari ancora sulla continuità bisogna vedere qualcosa però preferisci Turam l'attaccante di sono giocatori molto diversi nel senso intanto Turam se riesci lo prendi a zero qualcosa interessante anche da un punto di vista economico e poi insomma all'età è un ragazzo ancora giovane ci sono tanti punti di vantaggio diciamo che sono giocatori con caratteristiche di un certo tipo a me anche Beto piace tanto secondo me è un attaccante che può fare una bella carriera poi una carriera super lo so però a me non dispiace per niente in quasi un'ora di trasmissione Mauro non abbiamo mai nominato di Ketelare non so se è un record o altro lo nominiamo ora oggi dovrebbe arrivare a Dubai non so se è già arrivato e iniziare diciamo iniziare la preparazione con la squadra cosa ci dobbiamo aspettare lo dobbiamo aspettare punto ci dobbiamo aspettare che prima o poi si sblocchi perché poi si sblocca domani mattina fra una settimana fra un mese fra sei mesi fra un anno io non lo so però bisogna aspettare che si sblocchi e quindi continuare a fare in modo che il Milan non gli mette pressione il Milan lo protegge lo tutela lo fa andare avanti secondo il suo percorso sapevamo che non sarebbe stato facile lo sapevamo ci siamo presi un po' il rischio perché comunque quei giocatori lì di solito li prendono altri campionati a ben altre cifre abbiamo fatto un investimento e il Milan non molla su De Ketlar ecco Milan non molla e continuerà a lavorare a fare in modo perché il suo perché il suo ragazzo cresca non ci sono isterie da questo punto ma invece Adli va in prestito o resta? io penso che resti a me Adli è un giocatore che piace ieri ha fatto bene io ho letto tutte le voci di prestito ma che mi risulti non non è una cosa che potrebbe succedere a gennaio questo è il giocatore sui social posta una foto della partita di ieri della amichevole di ieri scrivendo sempre un onore indossare questa maglia sicuramente è un ragazzo guarda è un ragazzo di una serietà e di un'educazione pazzesca questo quindi spero che vada tutto bene sicuramente queste partite serviranno anche a lui per mettersi un po' in mostra e magari provare poi a ritagliarsi più spazio diciamo che quando l'abbiamo visto quest'anno non ha fatto benissimo a Verona lui ha giocato a Verona tutta la squadra non ha giocato benissimo poi è chiaro che nel campionato italiano certe partite poi era la prima di Bocchetti Bologna molto intenso che accorciava su tutti quindi non ha trovato spazio ieri aveva un po' più di spazio per carità ieri era un amichevole con l'Arsenal una tipologia di parita tutta diversa però è un ragazzo che insomma le sue qualità le ha io spero che prima o poi vengano fuori vengano sfruttate al meglio vedremo ovviamente come se sarà utilizzato di più alla ripresa volevo chiudere con una telefonata abbiamo solo due minuti e quaranta ma credo di non faccela abbiamo già fatto il caffè l'ha bevuto abbiamo fatto tutto Mauro discreto caffè torno sul torno sul mercato ecco perché ne parlavamo poi anche ieri durante la prima serata oggi anche il giornale rilancia questa offerta del Chelsea per le ha offerta da 100 milioni facendo riferimento ovviamente al mercato di gennaio è una breve del giornale è una breve che riprende il Corriere dello Sport di ieri per cui ieri diciamo che bisognava rispondere all'intervista di Ibra da un'altra parte va bene va bene costruito lo scenario ma nello scenario non c'era non c'era io ragazzi io non sono qui a dire le hao rinnova le hao firma non sono a dire non sono qui non ho certezze non so se prima o poi al Chelsea ci andrà quello che posso dirti per certo è che la situazione oggi 14 dicembre è la stessa dell'inizio della pausa quindi con le hao che ha fatto una riunione positiva con il Milan e che ha detto ai mondiali quando torno parleremo bene non è cambiato niente tranquilli ma anche perché adesso a parte tutto ma adesso quello che dicevamo prima tranquilli io non so come finirà però oggi l'offerta del Chelsea perché allora la notizia era il Chelsea potrebbe offrire 100 milioni di euro ma cosa abbiamo fatto l'assoluta specifica siamo stati noi a dire proprio che la Serie A è un campionato di trans perfetto da lì a ipotizzare che Milan e Inter a gennaio vendono Leao o Skriniar ce ne è parte ma le stesse sempre gli estremi o siamo quelli che devono prendere tutti o li diamo via tutti ci sono anche le idee di mezzo cioè i giocatori Milan e Inter hanno formato le loro squadre all'estate scorsa fino a fine anno si arriva poi vedremo a fine anno se arriveranno offerte qualcuno magari partirà qualcuno no ma non è che a gennaio arriva ti portano via mezza squadra con le due squadre ancora gli ottavi di Champions cioè adesso va bene tutto ma ci sono due squadre che hanno gli ottavi di Champions ma vendono tre titolari non credo siamo in chiusura vi devo salutare vi lascio così facendo arrabbiare Suma mollati i secchi proprio saluto e ringrazio Mauro Suma ciao Federica ciao a tutti Fabrizio Biasini ovviamente sempre ai derby torna settimana prossima inizieremo sempre allo stesso modo solo consumer in ritardo grazie a tutti per averci seguito ci spostiamo su Top Calcio 24 quindi ci ritrovate lì dopo la pubblicità ciao a tutti a tra poco ciao 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 ciao